che è quello dell'educazione, come queste nuove tecnologie, questo ambiente digitale, le nuove opportunità fino all'intelligenza artificiale, gli algoritmi che vengono ormai utilizzati su tutte le attività di ogni genere, come incidono, come possiamo affrontarli, come possiamo soprattutto valorizzarli avendo però quella capacità di discernimento che rende questi processi educativi, cioè formativi, di crescita e di bene comune e condiviso. Questo è il senso del seminario, per completezza dico che come commissione ne abbiamo programmati tre, questo è il primo, a ottobre ne faremo un altro su un'altra questione specifica molto sentita che è la dispersione scolastica, la scuola è certamente una delle più grandi risorse del paese, però abbiamo delle serie difficoltà che sono legate anche al disagio, alle fragilità, allo scollamento del tessuto sociale, quindi affronteremo questo tema. E poi un terzo seminario dedicato più proprio al tema dell'università come realtà non alattere, non ripiegata solo sulla ricerca scientifica, come ci sono alcune tendenze, soprattutto nel mondo anglosassone, ma un'università che sia pienamente a servizio della formazione ma anche pienamente integrata nella vita sociale. Quindi grazie davvero a tutti, è un seminario, cioè è un luogo in cui ci si ascolta, si dibatte, ci si confronta, sperando che poi questo aiuti ciascuno nel suo ambiente, nel suo contesto a fare così un po' rimbalzare queste tematiche e a continuare la riflessione e il lavoro. Ringrazio l'Ufficio Nazionale, il dottor Diaco che ci sopporta in questa attività della Commissione e della CEI e do la parola al professor Peyron che è della Dioci di Torino ma anche un docente dell'Università Cattolica perché oltre alle università qui di Torino c'è anche l'Università Cattolica, il professor Riva in modo particolare e io come assistente anche dell'Università Cattolica mi fa piacere che questa mattinata sia davvero condivisa e sviluppata insieme a Don Peyron il compito di moderare e coordinare i lavori. Grazie, benvenuti a tutti ancora. Grazie eccellenza, rinnovo anch'io il nostro benvenuti da parte di questo tavolo che proverà insieme a riflettere su una questione complessa che quindi ha bisogno di approcci complessi, in particolare rispetto alle nuove evoluzioni. Direi che questo seminario poteva essere fatto in qualunque giorno di questo mese e in qualunque giorno di questo mese io avrei potuto dire la frase che sto per dire. È importante fare il seminario oggi perché esattamente ieri è successo qualcosa. Ieri è stato approvato l'EI Act dall'Unione Europea. Domani, facciamo il seminario domani, oggi è successo qualcos'altro. L'altra settimana Elon Musk ha deciso di modificare la struttura di Twitter. Dopodomani succederà un'altra cosa. Non accadimenti banali ma accadimenti con una certa densità. L'EI Act non è un documento banale. La von der Leyen di fatto ha costruito l'Unione Europea, il suo programma politico ed è stata eletta e ha indirizzato l'Unione Europea in modo particolare occupandosi di questi temi. Quindi Digital Act, l'EI Act eccetera eccetera. Questo a dirci che l'attenzione sociale, il fermento sociale, ne parlavamo prima, l'accelerazione sociale, come direbbe Ulrich Beck, su questi temi è esponenziale. Come dunque affrontare questa questione? Oggi faremo un viaggio a partire dal generale con il professor De Marti nel Politecnico che si occupa di questi temi da diversi anni e si occupa di questi temi anche rispetto al mondo dell'università. Scritto qualche anno fa ormai Università Futura, un bel libro che oso dire, uso un termine un po' nostro, profetico perché buona parte di quelle pagine sono valide, validissime ancora oggi. Questo ci dice come allora fu capace di guardare lungo. Insieme al professor Riva entreremo nello specifico con un taglio particolare, mi piacerà in modo particolare ai miei studenti di Iusto che studiano psicologia, andando a toccare uno degli aspetti centrali della trasformazione digitale e con Marina Marchisio proveremo a guardare anche al bello, al buono, al vero che c'è nel digitale, soprattutto rispetto alla didattica, alla possibilità di creare inclusione sociale attraverso il digitale. Do dunque la parola a Juan Carlos chiedendogli di...